Nelle prime lezioni abbiamo già avuto modo di dare un'occhiata al formato delle celle. Abbiamo visto ad esempio che se ho un numero posso applicare il formato contabilità cliccando su questo pulsante. Se clicco sul pulsantino a fianco posso scegliere un altro tipo di valuta. Il discorso continua, ad esempio posso impostare il formato percentuale. Se clicco in questo menu superiore vedete che ho altre opportunità. Generale, numero, valuta eccetera eccetera. Ricordiamo che valuta è equivalente a contabilità. Ci sono delle piccole differenze marginali. Poi abbiamo anche il formato data. Allora supponiamo di mettere un numero e poi impostiamo data. Ci fornirà una data in questo esempio del 1900. Perché? Allora, una cosa che bisogna capire di Excel è che per esso ogni dato è un numero. E esso incomincia a contare dal primo gennaio del 1900. Quindi il numero 1 corrisponde al primo gennaio del 1900. Quindi se scrivo 1 e poi dico al computer che devo applicare il formato data, mi darà primo gennaio del 1900. Quindi ad esempio se faccio 366 avremo il 31 dicembre del 1900 perché è un anno bisestile. Se avessi fatto 367 mi avrebbe dato il primo gennaio del 1901 e così via. Se ad esempio possiamo fare il contrario, vogliamo sapere oggi che data è, basta scrivere la data. Cioè che giorno è rispetto al primo gennaio del 1900. Scriviamo la data di oggi. Gli applichiamo e gli diciamo che è un numero. E ci dice che è il 40.852 giorno a partire dal primo gennaio del 1900. Notate che qua avete anche l'opportunità di dare, di esprimere la data in questo formato data estesa. Quando abbiamo a che fare con un numero molto grande, esso viene espresso in un formato che viene detto formato scientifico. avendo a che fare con un numero molto grande, per rendere il numero più leggibile nel formato scientifico vengono fornite soltanto le prime cifre. Quindi c'è un effetto di arrotondamento. E poi viene indicato, quella è più 15 vuol dire che per ottenere il nostro numero lo dobbiamo moltiplicare 4,55 per 10 seguito da 15 zeri. Se noi vogliamo il nostro formato tradizionale, basta che selezioniamo la voce e il numero. Mi correggo. 4,55 per 1 seguito da 15 zeri. Notate che con la notazione scientifica si ha un arrotondamento perché si perde informazione sulle cifre successive. Quindi si perde in precisione nell'espressione delle cifre. Ma diventa indispensabile quando abbiamo a che fare con numeri molto grandi. In maniera analoga, anche se abbiamo a che fare con numeri molto piccoli, in questo caso l'esponente diventa negativo perché in realtà questo significa che 1 diviso 1 seguito da 42 zeri. Quindi per ottenere un numero minore di 1, molto piccolo, bisogna fare una divisione. Quindi non moltiplicare per 1 seguito da un certo numero di zeri, ma dividere per 1 seguito da un certo numero di zeri. Eccolo qua. Oltre a usare questo menu all'interno della scheda home, per accedere alla formattazione, al formato delle celle, si può cliccare sul pulsantino a fianco della parola numeri per far uscire la scheda corrispondente. Notate che ci sono alcune opzioni tipo le posizioni decimali che qua erano rappresentate da questi pulsantini, il separatore delle migliaia che è rappresentato da questo pulsante. C'è la possibilità, se abbiamo a che fare con numeri negativi, di indicare un formato apposito con cui rappresentarli, per esempio in rosso a posto del meno, oppure usare il segno meno, ma contemporaneamente il colore rosso. per la valuta, ancora una volta, abbiamo la possibilità di indicare un simbolo di una moneta straniera. per la data abbiamo diversi tipi di formati di dati con cui vogliamo visualizzare la nostra data e così via. la stessa scheda si può ottenere cliccando con il tasto destro e andando a un formato shell.